Il Batavia Arak è un rum 100% di melassa che viene dall'Indonesia anch'essa ex colonia olandese. Arak vuol dire gocciolare in arabo, ossia distillazione. Mentre Batavia è il vecchio nome dato dagli olandesi alla città di Jakarta. La combinazione delle due parole significa rum. L'isola di Java in Indonesia è un'isola ricoperta di canna da zucchero. Producono lo zucchero di canna, rimane la melassa, non si sciupa niente, si fermenta e poi si distilla. Per raggiungere un grado alcolico più importante del solito, gli indonesiani aggiungono riso fermentato che è il cibo per i lieviti. Questa melassa invece di essere a 4-5 gradi raggiunge anche i 7-8 gradi. Quindi diventa più facile da distillare in all'amico discontinuo Double Retort. Ricordiamo che l'Indonesia è un paese musulmano, l'alcol da bere è illegale. Perciò il rum viene spedito ad Amsterdam. Una volta arrivato in Europa, viene dichiarato prodotto medicinale dalla Dogana. Il rum invecchierà fino a 8 anni in botti di vino dell'est Europa, nel porto di Amsterdam. Sarà poi ridotto a 48 gradi ed imbottigliato. Questo rum non ha zucchero aggiunto. Speriamo di regalare ai vostri clienti l'interpretazione più autentica della distillazione della melassa. Essa, distillata con amore, ha un carattere, gusto, profumo e un terroir.